E' partito l'ultimo atto agonistico di questa venticinquesima edizione dentro sulla torre con Filippo Ravelli E' partito per un missile E' andato davanti in seconda posizione Riccardo Giavosa Adesso si stringe leggermente il gap L'istente Filippo Ravelli Con Lorenzo Frigia in seconda posizione Poi Giavosa Poi Rippa Oh, sale molto bene Lorenzo Frigia E' all'interno Cambia passo Lorenzo Frigia Grande il suo suo passo Riesce, ma riesce, non riesce Ricorda davanti Filippo Ravelli Ma è una volata molto bella questa Con Lorenzo Frigia Ma no, è lui, è ancora lui È ancora lui, è Filippo È Filippo È Filippo Ravelli È Filippo 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 Grazie.